Ciao ragazzi sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video, in questo video voglio parlare del pre partita e della formazione del pronostico di Juventus 1000, partita valevole, una partita valevole per la dodicesima giornata di campionato allora ragazzi questa partita sarà durissima, perchè loro giocheranno la partita della vita loro giocavano così male fino alla settimana scorsa, stasera daranno la vita sicuramente contro di noi, no? Danno sempre la vita contro di noi, tutti, tutti danno la vita, le merde, tutti danno la vita io dico merde, però tra le miran, perchè il miran dai è una squadra, il miran non è merda, il miran è per me il miran è sempre una grande squadra, temo molto il miran stasera e stiamo molto attenti ragazzi comunque stasera devo portarci a casa la vittoria, i tre punti che sono fondamentali allora ragazzi la formazione della Juventus di questa sera è un 4-3-2 modulo e nella Juventus vi sono Cessna in volta in difesa vi sono Quadrado, a destra è Alessandro a sinistra, come centrale vi sono Bonucci e De Ritt, a centrocampo vi sono Credia, Pianici e Matuidi come te quanti si vive Bernardeschi in attacco vi è Ronaldo e Guain dico una cosa di Bernardeschi? che cazzo giochi a fare? ma stai ma stai in tribuna e non rompe i coglioni stai in tribuna e non rompeci i coglioni più che tosto facciamo giocare Ramsey o Dragas Corsa che meritano molto di più il posto nella Juventus che uno scarparo che abbiamo preso nella Fiorentina è una viola di merda bene ragazzi adesso parlo del pronostico il pronostico di questa sera il pronostico è palla al campo il risultato lo darà il campo ragazzi non faccio pronostici perché Juve e Milan è pur sempre una partita strana sapete quella proprio di un gol di distacco quella proprio quella partita pazza una partita pazza Juventus mia quindi non saprei quale pronostico può essere per noi stasera io dico che il pronostico da sera lo darà il campo bene ragazzi con questo è tutto vi auguro una buona serata e una buona partita fino alla fine forza Juventus ciao ragazzi